Siamo al premio Pieve Saverio Tutino con Stefano Carbone, il bisnipote di Giovanni Stefanolo, autore del diario Ricordi di un Nomade. Possiamo dirlo, tuo nonno era un ribelle, uno che quando lo mettono in collegio scappa, è una vita comunque molto così, ribelle. Sì, una vita nella quale spesso non è riuscito a raggiungere i risultati che si era prefissato, insomma, quindi in cui c'è sempre uno scollamento tra le aspirazioni e le realizzazioni. Però sicuramente ha viaggiato moltissimo, ha visitato tantissimi paesi, cosa ci puoi raccontare un po' della sua vita? Sì, era una caratteristica di quel periodo storico di poter, perché lui effettivamente è passato da Italia, Argentina, Francia, però diciamo la quantità di italiani che hanno fatto questo tragitto è enorme e a Genova c'è proprio un percorso museale al riguardo e soprattutto da Genova e da Napoli erano i due poli di espansione. Poi però se non altro è riuscito comunque a costruirsi una famiglia? Sì, ecco, in qualche modo certi fallimenti però erano in qualche modo riassorbiti da un sistema forse di relazioni sociali più solido che non al giorno d'oggi. Non credo che questi fallimenti al giorno d'oggi avrebbero potuto essere metabolizzati così facilmente dalla struttura familiare. E come è arrivato questo diario fino a te? Questo diario apparteneva a mio zio che è convinto da mio padre a mandare il diario in questa istituzione e poi è morto prima di poter venire qua, quindi io sono qua in sua rappresentanza. Ma si parlava di questo diario in famiglia? Lo leggevate? No, non l'ho mai letto l'originale ma i racconti familiari erano, diciamo c'era nella mia famiglia una tradizione di storytelling in qualche modo per cui racconti alcuni non presenti nel diario che ingigantiscono ulteriormente le situazioni in chiave grottesca, insomma erano molto frequenti. Insomma questo bisnonno era un po' un personaggio diciamo? Sì, sì c'era questa caratteristica che poi è passata di insistere sul lato comico o grottesco delle situazioni. Ma vi è passata un po' questa passione per la scrittura? Sì, per la lettura sicuramente, per la scrittura non sempre ma diciamo per la narrazione abbiamo sicuramente raccolto il testimone.